Tu non fai un cavolo tutto il giorno? Dormi e basta! Non che prima facessi molto, ma questo fa parte della tua professione! E allora? Lato! Ma che cazzo di mestiere è il lato? C'è per una volta che io sarò uscito loro arrivano e io non ci sono! No, non ci faccio, tu sei pazzo completamente! Ah, io se lo faccio! Dio che stress! Allora sei stressata! Perché non hai detto subito che eri stressata? Se tu avessi detto subito che eri stressata sarebbe cambiato tutto il discorso perché allora uno pensa... Ehi? Stai parlando con me? Stai parlando con... Non c'è nessun altro qua dentro, quindi stai parlando con me! Lato, sei una moltiplicazione all'infinito di una rottura di paioni! E cosa? E forse... Speravo di no... Hai delle... Percezioni illusorie! Allucinazioni! Ah, quanto ti fa piacere questa cosa! Mi farebbe più piacere se mi gradesse, però... E delle persone che non sai chi sono, in compagnia di tuo padre, che è morto dieci anni fa, ti vengono a provare ogni tanto di notte! Allora se lo sai perché me lo chiedi! E poi lo chiedi! Io non ci credo che trovai con tutti! No! Stai solo con me! Io sto solo con te! Ecco, prendi... Ecco... Ogni cosa... A suo tempo! Che cosa ti ha detto a questa cosa? Lo si chiara! Non abbiamo case di fronte La gente che cammina in strada Ma mi chiamo Portogiano La gente guarda su La gente guarda avanti E qualche volta guarda su Ancora tutta la vita davanti Mi prego no Mi prendete Mi prego Mi prego Tu sei scemo Tu sei scemo Tu sei scemo Tu sei scemo Grazie a tutti